questo video probabilmente tarderà di qualche minuto ad uscire perché questo è il video sulla premier league che come da palinsesto pubblicherò il lunedì sera alle 23 oggi purtroppo la la partita era un tottenham celsi partita da vedere anche se questo tottenham celsi francamente è il manifesto della tristezza e della disumanità del calcio moderno tottenham ridotto in 9 il celsi appena segnato il gol del 2 a 1 partita per me completamente falsata da regolamento ma falsata in pratica era già il secondo terzo intervento del VAR in questa partita perché era già stato annullato un gol al attenzione gol del tottenham no dai cazzo fuori gioco raga oliver è il peggior arbitro su pianeta terra è davvero sempre indeciso sempre vediamo un po' eh temo sia fuori gioco temo sia fuori gioco si è fuori gioco ragazzi stavo dicendo scusate un attimo stavo dicendo il c'era già stato un gol perché era avanti il tottenham che stava giocando molto meglio del celsi al celsi era stato annullato il primo gol del pareggio per un fallo di mano di ramsey non ramsey di sterling rime sterling mi sono confuso poco dopo caicedo le ex brighton trova un bel gol su con un destro l'angolino e qui qui iniziato lo scempio praticamente lo scempio delle regole del calcio moderno e secondo me di questo passo il a vita breve in inghilterra quelli già non lo sopportano gli inglesi tra l'altro stanno ancora guardando stanno ancora guardando stanno ancora guardando il presunto pareggio del tottenham mamma mia che schifezza però dai non è più calcio questo ragazzi di questo passo fa la fine della formula 1 il calcio troppe regole regolette regolamenti ma dove non capisce un cazzo nessuno stavo dicendo il celsi la pareggia con caicedo l'ex brighton bel destro all'angolino come vicario non ci può fare nulla bel testo da fuori che però viene prima annullato per un fuorigioco di un giocatore del celsi che evidentemente influiva sulla traiettoria offside e poi nella stessa azione c'è romero del tottenham che libera del liberare l'aria dello spazzare colpisce prima il pallone poi però colpisce col piede un po così un po martello il nazionale enzo fernandez oliver bar vedere la zona al bar ed espelle romero e spelle naturalmente recupero di 10 12 minuti ora nel secondo tempo non puoi non ti fare tottenham perché raga il celsi non si può guardare cioè fanno giustamente la punta al cazzo come dice chino il grande chino fanno la punta al cazzo ad allegri per la partita di ieri ma ragazzi il celsi è inguardabile e questi hanno speso un miliardo di sterline il celsi è inguardabile cioè hanno poi ce l'hanno fatta a far gol ma come hanno provato a far gol provando ad eludere la trappola del fuorigioco non ad allargare il gioco in 11 contro 9 perché poi è stato espuso doglie l'ex udinese udoglie l'ex udinese per un fallo su sterling che francamente lui già ammonito poteva anche evitare c'era gai il celsi ha provato a far gol provando a deludere la trappola del fuorigioco provando a eludere la trappola del fuorigioco e non a provare ad allargare per carità qualche occasione l'hanno anche avuta per ora che il celsi è inguardabile mamma mia mamma mia peccato per il tottenham perché sta giocando in otto ragazzi voi guardate sono insieme a noi cinque metri tutta la squadra stanno giocando con una con una foga un ordine un agonismo veramente incommiabile veramente questo anche poste con lui ha fatto un lavoraccio naturalmente se io dovessi ragionare come certi scienziati pallonari di adesso vedi e ma anche ha sfruttato il lavoro di conte manco per il cazzo poste con lui veramente fatto un gran lavoro perché questa è una squadra che gioca veramente un bel calcio raga finché è stata in 11 contro 11 fila gol del tottenham gol di culuseschi sulla mezza papera del deviato giocatore del tottenham che era tenuto in gioco i due giocatori del celsi ai limiti dell'area piccola c'è culuseschi tira quasi da fuori aria ragazzi non avevano vista proprio la palla il celsi non aveva vista proprio la palla c'è veramente la una roba scandalosa questo celsi cioè fanno tanto la radiografia le partite di allegri e questi noi 9 i famosi 9 milioni di ingaggio il monte ingaggi più alto e questi e questi qua veramente questi veramente sono inguardabili se oggi vincono una partita ma sono francamente inguardabili francamente inguardabili questi se beccano il brighton di deserbi cioè gli fa un culo così il brighton di deserbi al celsi e meritatamente comunque veniamo alle altre perché questa è una partita oramai praticamente che chiusa gode solo il siti gode gode solo il siti di uno strepitoso geremie d'ocu due gol e tre assist vince 6 a 1 il burn out il siti a land o land non segna c'è su sei gol in cinque centra d'ocu due gol tre assist due gol tre assist di d'ocu questo giocatore fantastico questo era buttato a ren dopo il buon europeo che fece ci fece vedere ci fu nettamente più pericoloso in italia belgio dei belgi fu nettamente più pericoloso si era un po perso in francia o nessun cazzo di club italiano noi si va a prendere di mari e magari guardare questo geremie d'ocu che strepitoso strepitoso gode solo il siti che ora è primo in classifica supera il tottenham perché non penso che riesca a raddrizzare la partita anche se potrei veramente come un porco se il tottenham la pareggia godo come un porco veramente perché una squadra inguardabile un arbitro incapace ma un regolamento veramente da schifo il calcio così riesca di far la fine dalla formula 1 il calcio così veramente gode solo il siti perché in pratica in testa vince solo il siti perché l'arsenal perde a newcastle con un'altra decisione controversa onestamente a me pareva ci fosse un mezzo fuori gioco fuori gioco falo di mano palla uscita o meno un casino anche lì sono stati una vita nel per dire che era gol e ripeto agli inglesi non piace il bar agli inglesi non piace il bar e più quando vedono ste scene più si incazzano gli inglesi guarda il primo tempo di stasera è finito con una salva di fischi che voi manco potete immaginare non vince nessuno vince che succede manca il gol il tottenham non vince manco il liverpool che si è in verità si salva all'ultimo respiro in casa del luton town grazie a un gol di luiz dias al quale non possiamo non fare gli auguri per purtroppo per la vicenda di suo padre che è stato rapito da quegli altri mezzi criminali in colombia veramente lì in sudamerica sembra l'italia degli anni settanta per certi per certi versi è l'unica cosa che possiamo fare è solidarizzare con questo ragazzo a proposito di uton liverpool ragazzi si è mangiato un gol darwin nunez raga dovete vederlo dovete vederlo un gol veramente a porta vuota si è mangiato come vicario ha fatto un partitone stasera vicario ha fatto un partitone se continua così donnarumma mi sa che il posto di titolare donnarumma è a serio rischio se questo continua così e dicevamo perde l'arsena pareggia il liverpool vince lo united al termine una partita brutta in casa del fulham grazie a un tiro di bruno fernandez su un batti e ribatti da un'azione sporca perde anche l'aston villa in casa del not al city ground in nottingham tre punti importantissimi chiave salvezza per il nottingham ora 13 punti se non sbaglio a 6 7 punti dalla quarta ultima una roba del genere e stiamo alla dodicesima tredicesima di giornata cioè la quarta ultima a 6 punti 6 punti la quarta ultima se non erro è una roba proprio inguardabile 1 a 1 fra everton e brighton una partita decise da due autoreti praticamente con un brighton meno brillante dal solito devo dire che si salva grazie è un autogol ma si salva grazie a una giocata di quello che per me è il loro miglior giocatore che è questo mitoma che è davvero forte tra l'altro mica è tanto scarsa la rosa del brighton è mitoma gross duncan su fatti questo joao pretro che segna spesso e volentieri quest'altro fergusol che ha fatto cinque gol non è così scarsa la squadra del brighton è tra l'altro prima vittoria dello sheffield united su overhampton per 2 a 1 all'ultimo respiro diciamo il burnley perde in casa con crystal palace oramai penso che fra le ultime quattro che sono burley burl moat luthontown e e l'altro che lo sheffield united veramente rabbrividisco a pensare che una di queste quattro resterà in premier perché veramente sono quattro squadre io mi farebbe piacere si salvasse luthontown perché ultima arrivata le altre sono i classici yoyo team come li chiamano in inghilterra un po come il parma il frosinone queste squadre qua che sa conoscendo lo sarà conoscendo sono i classici yoyo team quindi io vedrei di buon occhio una salvezza dell'utontown tra l'altro perdere west ham perdere west ham è un altro argomento di questa giornata in casa del brentford ragazzi guardatevi il gol di kudos lex ajax questo è un altro top e questo è un altro top questo è un altro top player ragazzi fa un gol in mezzo sforbiciata ragazzi bellissimo bellissimo guardatelo che tanta roba il gol di kudos che si è subito integrato in questo brentford sta facendo non no nel west ham chiedo scusa cazzo sto a dire hanno perso col brentford che poi la ribaltata 3 a 2 ma ragazzi kudos è veramente tantissima roba tantissima roba kudos che altro argomento c'è da sviscerare diciamo che questa giornata si conclude con questo scandalo di partita scandalo non certo dal punto di vista regolamentare un regolamento che è diventato di merda quello del calcio interpretato dal dal meno inglese degli arbitri inglesi che oliver il quello del del famoso real juve ma non c'è tra niente quella storia lì detto questo detto questo mentre spero che segni il tottenham mentre spero che segni il tottenham grande son io mi son grandissimo vi saluto vi auguro buonanotte ricordandovi che gli argomenti di domani sono alle 15 si parlerà di serie b la sera naturalmente l'argomento sarà la champions l'argomento di attualità tema libero attualità domani sera sicuramente l'argomento sarà la champions spero che questa rimodulazione del mio canale vi stia piacendo a orari fissi in modo da renderlo più ordinato in modo tale che la community sa che a tale ora esce tale video lui sa che ha l'appuntamento fisso da lunedì al venerdì l'appuntamento è fisso 15 e 23 quelli sono gli orari dei miei video medil tottenham prova disperatamente a raggiungere un pareggio che per me sarebbe strameritatissimo perché ripeto ragazzi questi hanno speso un miliardo di sterline per giocare così di merda ma veramente il celsi è poca roba ma è poca roba veramente questo celsi stanno inanellando una stronzata dopo l'altra da quando l'ho mandato via tu che stanno inanellando una stronzata dopo l'altra occhio 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 tale Todd Broly gol no vaffanculo ragazzi iscriviti al canale ci sentiamo domani